Attivare a stretto giro il nuovo reparto di lungo degenza, indire l'avviso per ricoprire il ruolo di direttore dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Generale. Quest'uno degli impegni presi dal direttore generale dell'Asla Vezzano Sulmona L'Aquila, Rinaldo Tordera, nel corso del lunghissimo incontro tenuto ieri a Palazzo San Francesco con il sindaco di Sulmona Ana Maria Cassini, il presidente del Consiglio Comunale Katia Di Marzio, l'assessore regionale, le aree interne Andrea Gerosolimo e il direttore sanitario dell'Asla, Teresa Colizza. Un incontro proficuo che è durato diverse ore. Abbiamo avuto rassicurazioni un po' su tutto quello che noi avevamo richiesto. Nel corso dell'incontro è venuto fuori che già da settembre il reparto di ostetricia e ginecologia avrà un'unità in più di dirigente medico e questo per Casini, Gerosolimo e Di Marzio è un chiaro segno della volontà di voler mantenere punto nascita. Stando alle rassicurazioni del manager, il reparto di diabetologia verrà interessato dall'atteso miglioramento organizzativo attenzionato negli ultimi giorni. La direzione aziendale ha ribadito inoltre l'impegno assunto di dotare l'ospedale dell'annunziata della risonanza magnetica e di una unità operativa complessa territoriale di anestesia e rianimazione. Abbiamo avuto rassicurazioni sulla rete ospedaliera e su quelle che sono le nostre richieste, rimarca l'assessore Gerosolimo che aggiunge. Io credo che questo sia il modo corretto di procedere. Penso che nel giro di qualche mese l'offerta sanitaria del nostro territorio sarà un'offerta di qualità e per tutto il territorio della Valle Venite.